Buonasera a tutti ragazzi, io sono lo Spagna99, sono oggi ancora qua con un nuovo episodio di MotoCP 2015 Oggi siamo ancora in... Sempre con due ritardati! Esatto, e oggi faremo... Allora, io farò la gara, però le qualifiche le farà questo gran pezzo di figo che è Overplane Sì, perché è già al 34esimo posto, potevo arrivare al 33esimo come gli anni, però vabbè, le moto erano 34, quindi non potevo richiedere più di tanto Va bene, va bene mettergli qualche ostacolo in più, però due gare a zero è un po' tanzio Ragazzi, allora io quindi, probabilmente da questa gara partirò ultimo, perché non lo migliorerà mai lui Però ci vediamo ai box Ai box, puoi cambiare l'essertio della moto Puoi vedere ragazzi, comunque questo gioco ha caricamenti lunghissimi E quindi taglio, cioè Ci vediamo ai box Minchia hai rotto il cazzo, porco di... Oh, io perciò sto bestemmio, lo giuro, ma Chris e Dio Perché tu sei applicato, c'è niente di caricamenti Chris, e poi c'è iniziare il video da qua? Bella a tutti ragazzi, sono lo Spagnolo 99, sono oggi qua con un nuovo video Oggi in compagnia di... Paperplane C'è stato un attimo di ritardo, comunque sì, do a ratio record Siete ragazzi, vaffanculo Mi ritiro, senti proprio playing, fai sto cazzo di giro e finiamo sto video perché mi sta già venendo nervoso dopo 25 secondi Sì, perché anche in questo video ci sarà una piccola... Perché loro non so cosa devono dire, dicono minchiate Chris, lo spagnolo, cos'è caso? Mentre uno sta parlando, stavo parlando e lui arrivò, c'è, ma i box? Almeno fa, mi venì Ci vediamo e poi, dopo questo incidente, ci vediamo Come vi ho detto nello scorso episodio, come vi ho detto, probabilmente partiremo ultimi Freda! A sto punto potevamo anche non fare le qualifiche Non è ancora arrivato, ha già finito Non è ancora arrivato il rettilineo, ha già rotto la moto Ma era tutta una tattica Ha già rotto la moto Ma è che ci dobbiamo ritirare dalle qualifiche, mi sa, eh? Se vanno altri incidenti, ci dobbiamo ritirare Ragazzi, questo sarà il giro di... Frena, frena, frena Sì, ma non farei frenare il ticcio E poi capo, guardalo! Voi comunque dritto Non potevi usare il rewind anche prima? Sei un collo Ragazzi! Non è neanche fatto la prima curva, eh? Non potevi usarlo prima, il rewind Porca di quella... Anzi, come ha detto, probabilmente lui dovrà ritirarsi Per forza Non riesco mai a concludere Rifai partire tutto Eh... La via seriamente sezioni, no, Gabriel? Sezioni Sì, ma... Ok, almeno... Ma sembra... Frena! Non vedi che è rosso! Sembra che c'è lì spasmi il suo personaggio Poi quanto fa anche la scattini Quando diventa rosso... Tra quello, non è il gioco che lagga Ma va proprio in che guida Non ha ancora tagliato il traguardo Non usare il rewind! Perché è inesato? Non era andata la moto Ma poi non era... Non si era fatto nessun danno e poi era anche... Eh sì, partì da metà curva Vabbè, vabbè La tenuta La tenuta La tenuta La tenuta Non ci credo Eh sì, vai Vai Adesso va contro il muro Ok, è partito il giro, incredibile Rossi c'è Ce lo possiamo fare Purple plane c'è Non c'è più nella pista Ragazzi Tutti i piedi sul di lato Avete notato Io non so giocare No Ma l'hai visto il padre? Accontare La storia È un grandissimo pilota Ma perché? Purple plane È un pilota con le doti Migliori di quelle Inchioda subito Markets Inchioda Se avessi avuto Se avessi avuto Metà del suo talento Io avrei fatto punteggio pieno Non lo farà mai Ok ragazzi Riparare la moto Noi ci riproviamo L'ultima volta Dai ragazzi La prima e l'ultima volta Sta morendo Aspetta Ragazzi Rewind 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 Poi accelera E non frena Che cazzo è successo? Bagnata Bagnata Oh questa qua è un duello con bagnata Oh frena No mi sa che l'ha fatto cadere No Perché non è più dietro Mi sembra strano Che non sia più dietro Oh è rimasto in pochino Oh è rimasto in pochino Sto per avere Sto per avere uno di quegli infarti da rivedere Almeno Allmeno Ok Aspetta fammi finire il giro Fammi finire il giro No il bug è Ragazzi No il bug è perché ci faceva vedere non loro che facevano il warm up ma ci stava facendo vedere All'interno dei nostri box Ragazzi partiremo Il chi babbaro Il chi babbaro Kai Rudin Ragazzi qua faccio il botto Ve lo dico C'è il carrasco che c'ha Oddio Lo sapevo già che avrei fatto il botto Non è frenato C'è troppa gente Io avrei guidato meglio I punti sono fondamentali Si tanto così mi supera Ken Levati Lo cataglio Lo cataglio Lo cataglio Non ci sanno capiti Puncalo giù Tanto è Moto3 L'importante è andare in Moto2 E vincere MotoGP Non potete vedere la faccia che ha fatto lo Spanbro Cioè Oli e Ken Nav Sei dentro Attenzione La rambia La rambia Che cazzo Ragazzi Guarda che sto camminando Ragazzi Me lo dovete concedere Io questo me lo prendo però Guarda che si bata tutto Che cazzo è Questo video non dura 5 minuti Che cazzo dura 10, 20 Ok già ragazzi ci lo capite da ultimi Quindi Ci prendiamo Ci siamo dati un'altra chance La seconda chance Oh parte all'interno Vai all'interno Bravo Si adesso faccio botto BAM Orca Si ma non si Non vi raccontate Ma li contro Perché io sono caduto Spiegami perché sono caduto No voglio sapere perché sono caduto Gardner Ti ha superato il giardino L'ho sfirato in mia mente ed è caduto Oh che sfigato Oh la tenuta La tenuta Non so come la tenuta God 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 Come un muflone Bro De su casi Ma se zitto C'è il conflitto C'è che vara C'è che vara C'è Poetti Per Oh non Sono come prima Oh no Aio E noi Aio Willy giardiniere io sono Poetti Oh come taglia male Sì C'è bagnata Attenzione Bagliate sempre qua Attenzione c'è davanti Fenati Il suo grande amico D'infanzia No è lo che a te di quel pezzo di me Di quello che ti ha Guarda adesso scommetti che frena ancora Sempre su quella curva Secondo me Madonna quant'è Utdio Levati bagnata su dai Che io sono asciutto Perché Perché Che io sono asciutto Curva Levati Fenati Allora Bastianini Fenati Non ci siamo capiti Voi due Italiani Va bene Però se vi ammazzo Io sono giapponese Io sono giapponese Tipo italiani Io sono giapponese Io sono incredibile Il suo compagno di squadra Cosa ho fatto Tanto amato compagno di squadra Lo fa cadere Cosa ho fatto E ancora un rewind Incredibile Ho fatto un sorpasso impossibile E ne ho fatto cadere pure uno Ragazzi Meglio di così Non poteva andare Vediamo Dai Siamo sesti Questi come gli anni di Cristo Una volta in un'altra però Perso troppo Perso troppo Perfetto Oh Oh Non frena E guarda la moto Che quant'è Perché ridotta così Non lo so È un bug È un bug per forza C'è che non so Ah no L'incidente che ho fatto Di quello di là E la madonna Vabbè 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 Abbotto Rivedremo Voi ragazzi Voi che potete guardare Tornate indietro Al video lì Dell'incidente che ha fatto E E comunque stiamo mantenendo una settima posizione Con la moto ridotta così Quindi Mega male Mega male C'è solo il sotto C'è no no Non apre il manubrio Non ho più niente della moto Infatti le ruote Sono più No Sono la moto delle ruote Ma c'è un bagliere Non è una carriola No Non è una carriola Non è una carriola Non è una carriola Non è una carriola È presente che le qualifiche Erano finite così Con la moto così Non posso anche non frenare Antonelli Ma l'ingegnere non l'aveva riparato Che curva, che curva Navarro, Navarro, levati Naviglio, Navarro, vai BAM No, niente Abbiamo anche gli effetti grafici C'è il grafico C'è 44 davanti È lì, è lì Un podio, vogliamo almeno il podio Che esorpasso Che esorpasso Terzo ragazzi con la moto è ridotta Uno straccio partendo da un'ultimi Siamo A meno sul cuore soffreina Vabbè, meglio così No, va bene Comunque è un bel giro Tanto io non li recupero Quali recupero che va anche Il notario che ha fatto il giro Ma veramente ci sarà gente che dirà Ma lui è pazzo Il demente che è prima in campionato E va a farsi fare una gara da un altro Ovviamente Bravo È bravo Che arriva ultimo E dopo parte ultimo E viene ridotto così Ragazzi Tanto questo qua è fatto Se abbiamo culo E mi pare che davanti sono Oliva e Kent Se Oliva va davanti a Kent Sì Buona buona Dovremmo essere ancora primi In campionato Perché Lui non vuole sapere tutti Non possiamo squillerare Quindi non possiamo dire assolutamente niente Sì è vero Io non voglio sapere Io perché Io mi sto guardando la serie Ragazzi mi so Giuro che sto tremando Cioè sto tremando Lo giuro Mi ero rivisto per terra Stavo per rovinare una gara Quasi perfetta Perché È impossibile Non li recupererò mai Un secondo e cinque Dai ce la puoi fare Un secondo e cinque è fattibile Vedi Sì però Mi devo rischiare troppo Cioè questa curva qua Devo per forza fare Proprio è l'impossibile Eh non lo so Io lo terrei Per se posso lo terrei Sì sì Non è una posizione Da me in tutta Infatti Mi ho frenato Ho detto Se accederò magari No Non avrei comunque recuperato I ragazzi Abbiamo fatto una gara Perpetta Perfetta Perfetta Meglio di così Non si poteva fare Quei due sono scappati E Oliva È arrivata davanti a Kent Quindi Ci manteniamo La testa Della classifica Intanto lui Li coprono gli occhi Perché poverino Non può guardare Questa è buce Sono rimati all'affari Non può guardare Questa è buce Sono rimati all'affari Una rimonta pazzesca Siamo partiti Con tutti i svantaggi Del mondo La moto ridotta male Uno straccio Partendo da ultimi Siamo arrivati terzi Quindi sul podio Puro me era un bug grafico Io non so Però L'obiettivo è secondario L'obiettivo è arrivare In MotoGP Ovvero Noi faremo Moto3 Tutta la La stagione Moto2 Tutta la stagione MotoGP E lì punteremo Ad arrivare Però tanto Moto2 Comunque Il contratto Te lo danno Comunque In qualsiasi 3 Vediamo cosa dicono 44 La gara di oggi È stata impegnativa Nel duello con Cristo Io ho dato il 110% E rosica E rosica Non è andata bene Ma stiamo già Preparando le Contromosse Se ciao Non mi recuperi Neanche 300 anni Voci sempre più insistenti Vorrebbero Passaggio di Cristo E cazzo Che che Non mi ha mai chiesto nessuno Largas Non si sbottona Striptease Ok ragazzi Abbiamo fatto una gara perfetta Conclusa Grazie a me I modi Ho notato adesso Quella mensola Lì Del 1800 Lì che c'ha Quindi ragazzi Ragazzi Se questo video vi è piaciuto Iniziali a lasciare Come al solito Un bel pollicione In su A iscrivervi E noi ci rivediamo Con il prossimo video Bella Ok Grazie a tutti